Grazie amici, fratelli! Ieri qualcuno chiedeva ma perché andate a Pontida? Perché la Lega è una Lega di popolo e perché siamo tutti fratelli su questo prato? Perché è giusto venire qua a parlare con la nostra gente, a dire quello che faremo, quello che abbiamo fatto, perché a differenza di altri non abbiamo paura di stare in mezzo al nostro popolo, non ci chiudiamo nei palazzi, non andiamo in giro a dire delle cose e poi a farne altre in Parlamento. Guardate che in Liguria è successa una rivoluzione, sei mesi fa nessuno avrebbe scommesso un euro per dire che la Lega sarebbe diventata il primo partito del centrodestra, avrebbe superato il 20% dei voti, ebbene ci si è riusciti e io voglio dire una cosa, non ha vinto Forza Italia, ha vinto la Lega Nord e avete vinto voi, ha vinto Matteo Salvini e se lo devono ricordare tutti in questo Paese oggi non c'è bisogno di moderazione, c'è bisogno di rivoluzione, c'è bisogno di cacciare a casa quelli che hanno distrutto un Paese che dava lavoro ai propri figli, che dava un futuro ai pensionati, che dava un'assistenza sanitaria di qualità a chi aveva dei problemi, a chi aveva bisogno e dava una casa, ora in questo Paese si dà le case ai Rom e si cacciano i disoccupati, siamo un Paese dove ci chiedono di ospitare 170.000 immigrati irregolari ma facciamo fuggire 100.000 giovani all'anno che devono trovare lavoro fuori confine e allora se è stato possibile fare quello che abbiamo fatto in quest'ultimo anno grazie al nostro segretario federale Matteo Salvini io vi chiedo quando lui sarà Premier di questo Paese cosa sarà possibile fare? Sarà possibile finalmente dare un futuro ad ogni italiano, ad ogni padano, ad ogni ligura, ad ogni lombardo, ad ogni veneto, toscano, pugliese, perché questo Paese deve tornare nelle mani della gente per bene, bisogna smetterla di aver paura di andare sui treni perché qualcuno arriva lì con una roncola, un'accetta e se gli chiedi il biglietto ti taglia il braccio, noi stiamo dalla parte della legalità, delle forze dell'ordine, di quelli che ogni mattino vanno a fare i pendolari perché vogliono andare a lavorare, di quelle aziende che vengono fatte chiudere, che non riescono più a pagare i lavoratori perché qualche munitti nazionale finanziata dai soliti noti gli fa dumping grazie a un'Europa che sta distruggendo la nostra economia e allora io ho un ringraziamento a tutti voi, qua a questo prato bisogna che parta una riscossa dei nostri popoli, oggi è una giornata di festa ma è anche una prima giornata di una rivoluzione che deve travolgere tutto il Paese e deve cacciare l'ex sindaco di Firenze da quel palazzo perché sta distruggendo una nazione, un popolo. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quei militanti che senza soldi, con problemi a livello familiare, ogni giorno vanno per le strade perché noi siamo l'unico grande movimento popolare di questo Paese, non abbiamo le banche, non abbiamo la finanza, non abbiamo le cop, abbiamo voi e voi avete noi, siamo un'unica cosa, questa fratellanza è quello che sconfigge i poteri forti e che può sconfiggere uno Stato che si è dimenticato dei cittadini. Grazie a tutti, forza Pontida e viva Matteo Salvini!